allora presidente siamo proprio alla fine della manifestazione impressioni a caldo con tantissimi bambini tantissimo pubblico e tanto divertimento si come dicevi tu tantissimi bambini tantissimi genitori la manifestazione è stata bellissima fortunatamente il tempo anche se un po caldo ci ha aiutato e 700 bambini in campo sono stati bellissimi da vedere soprattutto anche le 2500 persone sugli spalti della propatria che ci hanno dato comunque una giusta carica quindi contentissimi dalla manifestazione ci sarà sicuramente l'anno prossimo come tutti gli anni la 32esima edizione